Il maltempo ha creato problemi anche all'Aquila, dove da ieri cade una pioggia battente. Il livello dei fiumi si è alzato pericolosamente in diverse zone, a Sassa, Monticchio e nella zona di Pile, sempre soggetta ad allagamenti. Anche a Tornimparte diversi garage sono stati sommersi dall'acqua. I volontari per tutta la notte hanno presidiato le zone più a rischio e anche il sindaco per Luigi Biondi e l'assessore Taranta hanno invitato le persone alla prudenza ad evitare di uscire se non strettamente necessario. La sala operativa della protezione civile regionale è stata costantemente al lavoro. Durante la serata di ieri abbiamo avuto delle piccolissime esondazioni di alcuni corsi d'acqua, soprattutto nell'Aquilano, nell'Aquilano interno, senza grandi problematiche risolte anche a livello comunale. Le previsioni per le prossime ore sono di un'altra ondata di pioggia che però dovrebbe trasformarsi in neve durante la serata a partire da quote dove già sta nevicando, quindi parliamo di mille metri, fino a quote più basse, intorno ai 6-700 metri. Però la situazione migliorerà nettamente nel corso della nottata, domani dovrebbe essere bel tempo. Noi siamo stati ovviamente presenti tutta la notte, c'è un'allerta giallo temporale che è stata messa dal Dipartimento della protezione civile ovviamente in rivalutazione nel corso della giornata e monitoriamo la situazione ma non ci dovrebbero essere grandi problemi. Intanto ieri c'è stata una riunione a Pescara sulle problematiche di manutenzione dei fiumi e delle competenze denunciate più volte dal presidente della provincia dell'Aquil, Angelo Caruso, invitato come presidente UPI. Sebbene apprezzo l'interessamento dell'assessore quaresimale, spiega Reteotto, tuttavia sottolineo come l'incontro abbia avuto ancora una volta un esito interlocutorio. Credo che sia stato l'intervento sostitutivo del governo, che abbiamo chiesto con i colleghi delle altre province, a scuotere l'ambiente regionale per sbloccare una situazione che vede il mancato trasferimento delle aste fluviali di secondo livello dalle province e comuni da lontano 2015. Il tema è sin troppo delicato, spiega la luce delle tante tragedie legate ai dissesti idrogeologici che accadono in Italia. Mi auguro davvero che la regione assuma la decisione, stabilendo una volta per tutte chi dovrà vigilare e compiere attività manutentive sui fiumi, evitando che sia il commissario governativo a farlo.